Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 si viaggia in colonnati verso Bologna per traffico tra Firenze in Pluneta e il BV1 variante Baccheraia. In A11 troviamo code a tratti per traffico tra Lucca Est e Prato Ovest in direzione Firenze. In FIPILI code segnalate tra Montopoli Val d'Arno e Ponte della Est e tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Verso Firenze troviamo code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici per viabilità esterna congestionata. Ricordiamo che sono in corso i lavori pubblico in via Bolognese a Firenze, previste chiusure e percorsi alternativi. Termine dei lavori 18 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!